Buongiorno a tutti, sono Anna Maria Pisani, quest'anno in occasione dell'Infiorata 2020 ci è stato chiesto di fare, di dare il nostro contributo tramite video e disegni fatti in casa ed eccomi qui. Non ricordo bene quale anno fosse quando iniziava a fare l'Infiorata però penso sia stato 1800 e qualcosa o giù di lì. Su questo può essere molto più precisa Antonella Santolamazza, Orrita Castolani e anzitutto ringrazio tutti coloro che come organizzatori portano avanti questa manifestazione a cui io do molta importanza e stimo anche chi come me nonostante gli impegni riesce a ritagliare un momento da dedicare esclusivamente alla Madonna per fede e non per altri motivi. I momenti particolari per cui posso parlare di questa cosa è l'atmosfera bellissima che si respirava durante la notte mentre eseguivamo questi disegni e niente, le signore di Via Maggiore, le storiche signore di Via Maggiore passavano per dare la pasta, le penne all'arrabbiata, la pizza, le ciambelline, il vino e quindi si creava un'atmosfera simile a quella che io ricordo della mia infanzia quando venivamo nelle famiglie allargate. È difficile descriverlo tramite parole, è una cosa che mi porto dentro il cuore con molto piacere. È il momento dell'Infiorata, è il momento in cui tutta la mia famiglia partecipa, siamo tutti insieme, è bello per questo. Quest'anno il mio disegno è dedicato alle Olimpiadi che sono state rimandate come tutti sapete l'anno prossimo e niente, ecco il cronometro 1 minuto e 53, va bene? Ciao Lidia, un abbraccio!